Oggi ci troviamo a Castelmagno, che si trova in provincia di Cuneo, in Vallegrana, una zona molto famosa per la produzione del formaggio Castelmagno, da cui il piatto tipico sono sicuramente gli gnocchi. Gli ingredienti principali sono tutti ricavati dal territorio. Abbiamo innanzitutto le patate, le patate che qua chiamiamo i bodi, che uniamo con la farina e con la cagliata di formaggio, la cagliata che verrà poi utilizzata per fare il formaggio Castelmagno. Schiacciamo le patate. La bellezza e la difficoltà di questa ricetta è che varia a seconda del periodo dell'anno, proprio perché è molto differente la tenuta degli gnocchi se uno utilizza le patate giovani o utilizza le patate vecchie. Misuriamo circa per un chilo di patate tre etti di farina. Piano piano la pasta delle patate assorbe la farina. La particolarità della vera ricetta degli gnocchi al Castelmagno è l'aggiunta della cagliata del formaggio. Noi prendiamo proprio questa cagliata che è stata tre giorni nel siero e la aggiungiamo all'impasto. La cagliata va sbriciolata. La pasta è bella compatta e lavorabile. Tagliamo una parte della pasta, la stendiamo. Gli gnocchi sono pronti, diamo ancora un pizzico di farina per tenerli belli separati. Non ci resta che prenderli e portarli in cucina per cuocerli effettivamente aggiungendo la crema di Castelmagno. Prepariamo adesso la crema al Castelmagno. Gli ingredienti sono tre. Il latte intero, un po' di burro e poi la crema di Castelmagno che abbiamo ricavato andando a sminuzzare finemente il formaggio e lasciandolo a bagno con un po' di latte affinché lui potesse riassorbire il latte e aspettiamo che si formi la crema. Ecco che l'acqua bolle e possiamo andare a buttare i nostri gnocchi. Ecco che gli gnocchi stanno venendo a galla. Li prendiamo e li andiamo a mettere nella crema che abbiamo preparato prima. Quello che darà la carimosità al piatto è il latte. Il gusto viene dato invece dal Castelmagno. Eccoci arrivati con gli gnocchi. Non può mancare come condimento finale un goccio di pepe che esalta totalmente il sapore del Castelmagno, del nostro Castelmagno.